Avevano rapinato una giovane donna costretta a prostituirsi a Pescara per riportarla in Bulgaria. Per questo motivo sono finiti in manete due cittadini bulgari di 43 e 35 anni con l'accusa di sequestro di persone e sfruttamento della prostituzione. I due che avevano caricato di forza la ragazza 21enne sono stati fermati dalla polizia di Gorizia al casello della A34. L'allarme alla polizia di Pescara è scattato grazie ad una segnalazione di un'amica che nella giornata di domenica aveva ricevuto un messaggio di aiuto dalla vittima. Ci racconta di un sequestro di persone sventato, tecnicamente consumatosi perché la ragazza è stata caricata con forza su un furgone e ha viaggiato diversi chilometri. Per fortuna siamo intervenuti come polizia di Stato perché è stato uno sforzo corale con l'apporto determinante della Procura della Repubblica di Pescara. Siamo intervenuti prima che la ragazza venisse portata oltre confine, quindi verso un destino dai contorni assolutamente incerti. È una ragazza che era qui da più tempo, quindi che parlava l'italiano, cosa che fa la differenza non da poco, con cui la vittima aveva legato in questi pochi giorni sulla strada a Pescara e che appena ha avuto notizia dell'avvenuto sequestro e ha percepito la gravità della situazione e non ha esitato a contattare i poliziotti tramite 113 e venire in questura e essere anche collaborativa nell'intrattenere una chat telefonica per quanto saltuaria, perché i messaggi arrivavano uno ogni tanto con la vittima del sequestro.